La vicenda dei rifiuti riserva ancora molte sorprese. Dopo aver trascorso un anno a cercare di scrollarsi di dosso le possibili responsabilità su un servizio di gestione rifiuti che probabilmente danneggia l'ente comunale e i cittadini, la Giunta continua a far rimbalzare le responsabilità confondendo i cittadini attoniti dinanzi alle tasse da dover pagare e alla totale assenza di servizi. Lo dice il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle. Noi siamo arrivati al 2017 e ci sarà una nuova proroga. L'amministrazione non chiarisce assolutamente quali sono le ragioni, o meglio, cerca di mischiare le carte. In Consiglio Comunale fa delle dichiarazioni, in precedenza ne aveva fatte altre. Non riusciamo a comprendere di chi siano le reali responsabilità di questa proroga. Quello che sappiamo è che noi abbiamo una società che aveva vinto un appalto per un periodo determinato e siamo arrivati al 2017 a forza di proroghe. Questo non va bene perché, di fatto, noi ci troviamo con una gestione dei rifiuti che non possiamo comprendere a fondo. Consideriamo questo aspetto come un aspetto fondamentale. E, tra l'altro, non riusciamo neanche a comprendere chi dice il vero tra le dichiarazioni del Vice Sindaco e le dichiarazioni del Commissario, oggi dimissionario, Enrico Vella. Ma che tipi di dichiarazioni rilasciano entrambi? Ma, allora, noi abbiamo da una parte le dichiarazioni del Commissario, dove la problematica sembra essere riconducibile a delle deficienze in merito al piano d'ambito. Dall'altro lato delle dichiarazioni fatte, e tra l'altro quindi ad un'attività che sarebbe riconducibile anche al Comune, quindi una mancanza di tipo amministrativo comunale. Dall'altro lato invece delle dichiarazioni fatte al Vice Sindaco, dove sembrerebbe che la responsabilità sia invece di attribuire a mancanze macroscopiche della Regione. Ecco, di fronte a questo, i cittadini che domande si devono fare? Di fronte a questo i cittadini hanno una città invasa dai rifiuti a tutte le ore del giorno, perché, ricordiamocelo, la differenziata non deve essere calcolata solo a peso. Non possiamo semplicemente dire abbiamo il 47%, il 50% e il 60% di differenziato. Dobbiamo davvero renderci conto di come il servizio di gestione dei rifiuti nel complesso funziona. Invito tutti a fare un giro adesso, nelle ore mattutine, in giro per la città, e a trovare rifiuti ad ogni angolo della strada. E questa è una reale problematica. E poi c'è la problematica delle dichiarazioni del Vice Sindaco in Consiglio Comunale relativamente alla Gara Ponte. Delle dichiarazioni che non hanno assolutamente chiarito questa questione della Gara Ponte. Il Vice Sindaco dice che di fatto è una cosa che non potrebbe farsi e che in comuni come Brindisi e Torchiarolo di fatto il Tarra ha bloccato tutto. Da approfondimenti che abbiamo fatto a livello giornalistico, quello che abbiamo potuto rilevare è che il Tarra ha fatto altro a Brindisi e a Torchiarolo. Ha di fatto sì fatto un intervento rispetto a questi comuni, ma non per la Gara Ponte in Sela. La problematica riguardava il mancato invito di un'azienda. La verità è che anche a Brindisi e Torchiarolo la vera posizione del Tarra è quella di dire finitela con le ordinanze che reitrano l'assegnazione dei rifiuti senza una gara d'appalto. E voi nella nota però vi complimentate con i dipendenti della TRECA che svolgono con obbligazione il proprio lavoro. Assolutamente. Il Movimento 5 Stelle ha innanzitutto preso a cuore la vicenda dei lavoratori e grazie a un lavoro costante che abbiamo fatto vicino ai lavoratori e tutto il gruppo consigliare, oggi quelli che non erano stati inclusi all'interno del contratto di lavoro sono tornati a lavorare per la TRECA. E ricordiamocelo, è un merito soprattutto ai lavoratori che hanno dimostrato di non volere mai mollare il loro posto di lavoro.